La cosa che tipo mi sorprese è che nonostante non volesse stare con me eccetera eccetera Stavamo limonando Lei tipo quel giorno quando ne parlammo poi la sera disse che era stato tutto uno sbaglio Che lei non voleva E io ho detto ma cosa non volevi? Che eri con la lingua proprio dentro di me che facevi Ola, eccoci tornati ragazzi E per quelli di voi che già dicono eh ma porto solo questo ormai no Devo riprendere a portare i video di Fortnite anche quelli classici non solo questi Ma per quelli di voi invece che amano questo tipo di video Molto presto ne uscirà un'altra serie parallela che sono formati di video tipo questo Ma che parlano anche di altri argomenti Bullismo, big money e altre cose diciamo della mia vita passata Su cui posso darvi magari qualche consiglio in più Anche la temuta free handzone di cui sono stato colpito più volte Beh nell'ultimo episodio avevamo detto quanto io fossi uno schiavo di quella tipa lì E quanti favore gli facessi sempre 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 Pensando che prima o poi lei me l'avrebbe data Invece non me la dava mai E qualcuno di voi già dice eh ma queste storie sono tutte inventate Ma secondo te se fosse una storia inventata Non potrei inventarmi cose mille volte meglio Che tipo trombavamo dalla mattina alla sera in un milione di posti diversi Però raga come al solito 10.000 like per il prossimo episodio Non deludetemi perché ci arrivate sempre in un giorno Quindi non deludetemi E poi mi avete detto che preferite quando io gioco e parlo Piuttosto che quando invece metto il gameplay sotto e parlo Adesso vi faccio fare un sondaggio Lo trovate in alto a destra Se cliccate c'è tipo una I dentro un cerchietto Se voi lo cliccate potete selezionare Se secondo voi è meglio io che gioco e nel frattempo parlo Oppure io che parlo e basta Comunque in questo episodio voglio raccontare come siamo finiti a limonare Io e la tipa che non me l'avrebbe mai data Ossia Genoveffa Fate conto che noi siamo stati amici Io ero suo schiavo per mesi e mesi e mesi La ragazza del fumo Della storia del fumo È stata lei È per lei che io ho fatto il mio primo tiro e unico di sigaretta Per colpa di questa tipa qua Cioè mi ha fatto fare di quelle pazzie veramente da stupido Ero proprio un maschio stupido Ci vedevamo magari meno spesso di un tempo Anche perché con l'inizio della scuola no Sapete che si inizia a studiare eccetera Quindi non si ha tempo per vedersi così come d'estate Però una volta io sono andato a casa sua Diciamo che ci andavo spesso Tipo due volte a settimana Tre volte a settimana Dipende poi chiaramente dai nostri impegni E lì ci davamo dentro di brutto chiaramente Ma proprio di brutto Chiaramente no invece Chiaramente proprio no Quello succedeva nella mia testa Sapete no quando avete quel contatto con quella amichetta Con cui volentieri insomma Monelli che non siete altro Monellini E una volta che ci sono stato Stavamo guardando MTV come al solito Perché stavamo sul divano a guardare MTV Non chiedetemi perché Eravamo stesi su quel divano E guardavamo MTV Dovete sapere che lei verso le 7 O verso il... Sì verso le 7 praticamente Aveva hip hop Perché lei faceva hip hop Quindi ballava Io invece non c'avevo niente da fare come al solito Ma è possibile che in 7 metri di partita Ho trovato solo pompa Guardate Un, due Guardate lì Tre pompa E guardate qua adesso Quattro pompa Cinque pompa Oh solo pompa in questo posto Finalmente una R e una pistolina Possibile Questa è la mia sfiga all'inizio Solo pompa Neanche ci fosse il double pump Che dici Vabbè dai ci proviamo Sei pompa signori Sei pompa Questa è proprio la mia sfiga all'inizio Comunque eravamo a guardare MTV In casa sua Diciamo stesi sul divano Quando a un certo punto Lei si adagia Stravicina a me Cioè proprio si avvicina tantissimo E io la sentivo Che c'era qualcosa nell'aria Che lei era tipo tutto super attaccosa Super vicina E cose di questo genere qua E anche il mio amico di sotto Lo sentiva bene Altro che E una certa Da essere tipo Stesi semplicemente su un divano Era un divano abbastanza grande Stesi sul divano in due Lei è praticamente finita sopra di me E ha iniziato a dire cose come Eh devo ricaricarmi Di qua e di là Tipo praticamente ormai Sopra di me E lì Io me lo ricordo benissimo Era l'8 ottobre L'8 ottobre del 2016 Può essere Comunque quando io ero in prima superiore L'8 ottobre di quell'anno lì Noi abbiamo limonato Ma proprio Cioè quando lei mi disse Devo ricaricarmi Era praticamente sopra di me Io l'ho presa e l'ho limonata Intanto siamo a 7 pompa Qua vorrei dire La cosa Che Che tipo Mi sorprese E' che nonostante non volesse stare con me Eccetera eccetera Stavamo limonando E non posso dire Eh lei non ci stava Eccetera Perché ha preso la lingua E l'ha infilata nella mia bocca Altro che Io ci sono andato piano Inizialmente perché Avevo la paura del rifiuto E quindi tipo Cioè l'ho baciata Ma molto velocemente Cioè Proprio tipo Sì una roba toccata e fuga Ma lei praticamente Mi ha ritratto E praticamente Mi ha infilato la lingua in bocca Ed è stato quella roba lì Che io ho detto Ma scusa Ma allora ce l'ho fatta finalmente Allora finalmente Sono uscito dalla free hand zone Il tutto però è durato Solo 30 secondi Che in realtà Sono anche tantini Cioè non posso lamentarmi Di 30 secondi di limone Però semplicemente Lei fa No stiamo sbagliando Bla 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 E quindi tipo Dopodiché Ci siamo Ci siamo staccati Poi siccome ormai Era tardi Erano le 5 e mezza Eccetera Lei doveva subito andare a di pop Wow ma tu cosa fai lì sopra amico Adesso ti vengo a prendere Tranquillo Wow quanta roba inutile E lei doveva andare via Io poi tornai a casa Se sei arrivato fino a questo punto del video Penso che i miei video ti piacciono Quindi ti chiedo semplicemente il favore Di iscriverti Di attivare la campanella E se ti piace il video fino a questo punto Di lasciare un piace Non ti costa nulla E diventerai un vero connessionato puro Di quelli puri Al 99,9% Parola di Roberto Carlino Ma quel bacio mi fregò una vita Perché scusatemi Cioè quando una tipa vi limona Vuol dire che praticamente ci sta Io mi son detto Ma cavolo ma ci sta Allora Cioè nella mia testa Ancora il concetto Cioè il concetto di Ci baciamo Vuol dire che siamo fidanzati Non esisteva il concetto di Limoniamo tanto per Così così E quindi il tutto Mi fece rimanere un po' fregato Capite Guardate un pompa Due pompa No 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 Sta partita è solo pompa Praticamente Raga Questo è Questo è Stare dentro la testa del tomato Per raccontarvi le robe Questo è Non so cosa succede Se spedono No si è rotto No Allora raga Quando avete una girosfera Camperate dentro La testa del tomato Perché non Ah guarda che strano Un altro pompa Perché non potete Un altro pompa Wow Che magia Hola Questo mi sembra il posto perfetto Per raccontare una storiella Quel bacio mi fregò una vita Proprio perché io pensavo Cavolo ma adesso stiamo insieme Non esisteva il concetto di Limonare tanto per a caso Tipo torno a casa Star felice Basta ormai la mia vita è completa Limoniamo una vita Siamo proprio fidanzatissimi Eccetera In realtà lei non la pensava così Lei tipo quel giorno Quando ne parlamo Poi la sera Disse che era stato Tutto uno sbaglio Che lei non voleva E io ho detto Ma cosa non volevi Che eri con la lingua Proprio dentro di me E lei diceva Che non lo sapeva Perché l'aveva fatto Perché qua Perché di là E perché destra E perché sinistra Insomma le solite robe Che le femmine dicono Cosa ne pensate La nuova mimetica lava L'ho shoppata oggi Col codice OTPFI Veramente Chiaramente Che vi invito a utilizzare Tanto è gratis So che non utilizzate Nessun codice Quindi mettetelo Il mio Per favore Per favore Ve lo chiedo E ricordatevi Che ogni 14 giorni Il codice si toglie Quindi assicuratevi Di riaggiornarlo Cioè io non so Se voi Vi è mai capitato Di essere una situazione Dove non capite Se una tipa Vuole stare con voi Oppure no Perché i suoi Segnali Sono contrastanti Che a volte sembra Che voglia stare con voi A volte no Boh Cioè veramente La situazione era quella Da quel giorno in poi Ci vediamo sempre di meno Ma un'altra cosa Ancora più eclatante Doveva succedere Nel gruppo di classe Nel gruppo di classe mio Lei era presente Perché io l'avevo inserita In modo che Siccome non aveva molti amici Conoscesse un po' di gente in più E chiaramente Alcuni miei non amici Si approfittavano Di questa roba Se ne approfittavano E come bastardi In pratica Dovete sapere Che quella zoccola Di Genovefa Sapete cosa ha fatto dopo Si è messa Con un mio compagno Di classe Ma la cosa è terribile Non è tanto il fatto Che si sia messa Con il mio compagno Di classe E che non l'aveva mai vista In vita sua Cioè praticamente Questo qua Ha fatto il figlio Della Melma E praticamente Ci provava con lei Di nascosto Mentre Mentre Sapeva benissimo Che a me Lei piaceva E cose di quel genere là Quindi Se siete dei finocchi Che ci provate Con le fidanzate Dei vostri amici Veramente O comunque Quelle con cui ci provano I vostri amici Siete proprio Dei figli Della Melma Ve lo dico L'ho fatto anch'io Ma lo siete lo stesso Sappiatelo Finalmente Un po' di azione In questa partita Diamine Questo qua È proprio un finocchio Da estirpare Ma perché devono rompere Tutti a me Vabbè dai Ci mettiamo qua E via Cioè lei si mise Con un mio compagno Di classe Che non aveva mai visto In vita sua Distrutto Signori Distrutto Proprio Distrutto È la parola esatta Distrutto Devastato Ci ho provato Amici Che poi Quel mio amico Cioè Alla fine Loro due Si sono anche lasciati Chiaramente Dopo non tantissimo Però io Cioè veramente Ce l'avevo con lui Una vita Doveva morire male E voi vi chiederete Ma quando tutto questo finì Praticamente Quando una ragazza Prese il telefono Di Genoveffa Una sua compagna Di classe Glielo prese E iniziò a rispondere Lei al posto mio Io la odiavo Quella ragazza Cioè veramente Mi rompeva sempre Perché rispondeva malissimo Tipo ci odiavamo A vicenda Eravamo tipo Cane e gatto Tipo Tom e Jerry E ragazzi Quella ragazza lì Era latina Tipo Tom e Jerry